Vita di condominio è raccolta rifiuti, due spicchi di quotidianità con cui tutti i giorni migliaia di persone fanno i conti, ma che da qualche tempo a Varese hanno cambiato passo, stile e narrazione. Merito dei due soggetti che se ne occupano direttamente, ovvero la Camera Condominiale e l'impresa San Galli che dall'inizio dell'anno gestisce il servizio in città. In comune non hanno solo una stretta sinergia con le istituzioni locali, ma anche l'intenzione è di aprirsi, raccontare e condividere scelte dinamiche e obiettivi, affinché la convivenza civile e culturale non sia solo appannaggio di pochi, ma patrimonio di tutti. Nasce così l'accordo firmato a Palazzo Estense e incentrato sulla formazione degli amministratori di condominio nell'ottica di una gestione consapevole, competente e sostenibile. Questa è un'iniziativa che mi fa molto piacere perché naturalmente la collaborazione tra gli amministratori di condominio e l'impresa che fa l'igiene urbana non può che facilitare il buon svolgimento del servizio. Destinatari diretti dell'accordo ai professionisti del settore, ai quali spetterà poi il compito di aggiornare e informare i loro interlocutori naturali. Parleremo anche agli abitanti del condominio perché metteremo in pista una serie di comunicazioni mensili e anche giornaliere per capire il servizio come sta andando con dei feedback sia dagli amministratori che agli abitanti del condominio. In poi anche grazie alla collaborazione con la sua rete a settembre genereremo nella terza stagione una puntata dedicata solamente alla cultura della raccolta dei rifiuti. Obiettivo primario incrementare ulteriormente la raccolta differenziata e più in generale diffondere in modo semplice e diretto l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Noi sicuramente mettiamo tra i primi obiettivi in qualsiasi progetto le campagne di comunicazione ambientali perché la formazione è la base per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e aiutare i cittadini nelle modalità di fare questa raccolta senza tante paure. Finora che idea si è fatta dei varesini sono disciplinati? Direi di sì.